Greco, ci siamo? Labbate, Giuliani, Giuliani, ok, altri? La votazione è chiusa. Presenti 417, votanti 351, assenuti 66, maggioranza 176, favori 77, contrari 274, la Camera respinge. Siamo all'articolo 15 e ho bisogno dei pareri. Relatore. Sì, Presidente. Allora, 15.1, invito a ritiro parere contrario. 15.200, favorevole. 0.15.36.1, invito a ritiro parere contrario. 0.15.36.3, invito a ritiro parere contrario. 0.15.36.2, invito a ritiro parere contrario. 0.15.1, invito a ritiro parere contrario. 0.15.2, invito a ritiro parere contrario. 0.15.2, invito a ritiro parere contrario. 0.15.2, invito a ritiro parere contrario. 0.15.201, che è questo. Pagina, lo dico per gli altri colleghi, è a pagina 18 del fascicolo, il 15.34. Prego. In particolare, l'emendamento 15.34 dovrebbe essere riformulato nel senso di sopprimere il riferimento al comma 4 del capoverso che l'emendamento 15.201 ha fatto cadere, sostituendolo con il riferimento alla lettera A del comma 2. In entrambi i casi si fa riferimento alla sezione del fondo di garanzia. Il resto dell'emendamento risulta con ciò immutato. Bene, aspetti, così chiediamo subito all'onorevole Ermini se è d'accordo. Ok, così si intende riformulato. Proseguiamo, 15.3. 5.3, invito a ritiro parere contrario. 5.4, invito a ritiro parere contrario. 15.4, invito a ritiro parere contrario. 15.5, invito a ritiro parere contrario. 15.6, invito a ritiro parere contrario. 15.7, invito a ritiro parere contrario. 15.38, invito a ritiro parere contrario. 15.35, parere favorevole. 0.15.9.3, invito a ritiro... Siccome è stato ritirato il 15.9, tutti i subemendamenti per la certezza 0.15.9.3, 0.15.9.2, 0.15.9.1, 0.15.9.7, 0.15.9.8, 0.15.9.9, 0.15.9.6, 0.15.9.5, 0.15.9.10, 0.15.9.1, 0.15.9.4, 0.15.9.12 e 0.15.9.9.1. Per l'appunto, sono decaduti perché è stato ritirato il 15.9, quindi passiamo al 15.8, Sarti. Parere contrario, invito a ritiro parere contrario. 15.9, invito a ritiro parere contrario. 15.20, invito a ritiro parere contrario. 15.17, invito a ritiro parere contrario. 15.6... Onore delatore, solo per il verbale, stiamo parlando del 15.19, 15.20 e ora 15.16. Grazie, Presidente. Prego. 15.16, invito a ritiro parere contrario. 0.15, punto 31, punto 1.